Siamo qui con Nicolò Catalan dopo un eccezionale partito, un gran rientro dopo la defiance di metà settimana, avete dato una bella risposta sul campo, un bel 3-0 per Garlasco. Sì, indubbiamente c'era questa voglia di ritornare a vincere subito dopo un passo falso che abbiamo fatto a Macerata. È stato bello comunque tornare al nostro palazzetto, era un momento che non ci giocavamo e stare con il nostro pubblico si sente la differenza. Siamo stati bravi ad assorbire gli errori e comunque ad accelerare quando invece eravamo in scia positiva. Per te soddisfazione anche personale, è MVP della partita, una partita tutto tondo con battute, muri e anche belli attacchi. Anche come al solito avete giocato bene di squadra. Diciamo che questo successo vi può dare un qualcosina in più per la partita di mercoledì che è un sogno. Sì, certo, adesso non abbiamo neanche il tempo di riposarci e iniziamo subito a lavorare per la prossima partita che andiamo giù a Lecce per la Coppa Italia. E quindi andiamo a giocarcela. Ci giochiamo a questo sogno. Grazie Nicolò e altri complimenti. Grazie.